Feltri ha sentito Sgarbi, quindi le persone che cercano rifugio da noi, cercano accoglienza, cercano sicurezza, cercano lavoro? Sì, dubbio che non siano turisti, questo è pacifico. Io però credo anche che si devono avere le risorse per fare un'accoglienza degna di questo nome e non mi pare che l'Italia sia all'altezza di questo compito. Tanto è vero che anche oggi ho mandato un fotografo in giro per Milano per vedere come avviene questa accoglienza, per capire se siamo una città all'altezza di ospitare tutti i giorni dei nuovi venuti e ho visto soltanto delle scene piuttosto desolanti, gente che bivacca nelle aiuole, e anche gente che in centro anche stende delle coperte davanti alle saracinesche e si addormenta lì non avendo altre possibilità. Insomma, Milano ormai è diventata una città, non vorrei dire di accattoni per non usare un termine offensivo, però purtroppo la nostra accoglienza poi sappiamo che si riduce a una chiacchiera, a una marcia e poi nessuno riesce a dare a chi viene a chiederci aiuto qualcosa di definitivo, qualcosa di rassicurante. Io su questo punto avrei molto da dire, noi possiamo soltanto cercare di utilizzare le risorse che abbiamo, siccome le risorse che abbiamo non sono sufficienti neanche per i nostri poveracci, credo che sarà difficile accogliere tanta gente che continua ad arrivare dall'Africa, e non solo dall'Africa e dare loro un'assistomazione idonea al civile, questo non avviene. Direttore, scusa solo un attimo, perché siccome...